Giuseppe Fiorino, dirigente Forza Italia, interviene sulla sanità crotonese. Da 31 a 24 sono questi numeri freddi ma eloquenti che porteranno, se non si troveranno soluzioni immediate, all'ulteriore eliminazione di sette guardie mediche e che più di mille parole illustrano e racchiudono tutta la complessività della sanità nella provincia di Crotone. Una problematicità che anno per anno si sta accentuando senza che all'orizzonte, pur tra mille rassicurazioni, si intraveda una soluzione, con la concreta e realistica possibilità che nei prossimi mesi la situazione possa peggiorare con la riduzione di ulteriori presidi sanitari che priverebbero i paesi interni dei servizi essenziali e garantiti dalla Costituzione italiana come la sanità e l'istruzione. Va riconosciuto che le soluzioni non sono facili e che soprattutto nessuno pensa di avere la bacchetta magica, ma in un lavoro di squadra concentrato e condiviso tra la Regione Calabria, il management dell'Asp di Crotone e i sindaci del territorio si possono trovare, almeno nell'immediato, correttivi e rimedi. Per prima cosa vanno subito riviste tali scelte e va potenziata e migliorata l'offerta dei servizi sanitari capovolgendo il metodo sin cui usato e cominciando con il privilegiare in primis le aree interne. Sotto questo aspetto vanno coinvolti i medici in pensione, andrebbero coinvolti i medici specializzanti e se possibile i medici cubani, meritoriamente fatti arrivare in Calabria dal presidente Roberto Occhiuto e vanno individuate e trovate sede e postazioni dignitose e sicure in cui i medici possono svolgere la loro attività medica. Tutto questo nella consapevolezza che la soluzione ottimale, la madre di tutte le nostre considerazioni e riflessioni, resta quella di eliminare il numero chiuso nelle facoltà di medicina e chirurgia, atteso che in Italia nei prossimi anni mancheranno migliaia di medici e infermieri che, stante l'invecchiamento di grande parte della popolazione, aumenterà proporzionalmente la necessità e il bisogno di sanità e di servizi sanitari ottimali. Mancanza di medici che avrà ripercussioni pesantissime nelle aree interne di tutta la Calabria e in particolare della provincia di Crotone, senza dimenticare l'assoluta precarietà in cui si trova l'ospedale civile di Crotone, unico presidio sanitario pubblico dell'intera provincia, che da anni, inesorabilmente, è nel silenzio più assoluto, sta vedendo sparire in molti casi, depotenziare interi reparti, con il conseguente abbandono di medici e infermieri e che di fatto hanno reso il San Giovanni di Dio un piccolo e inutile Spock.